Sì? quindi la fate è rimesso che gli piace, rimesso per il rango Sì sì, ah... buona... Ehm... Ok ok Ok, quindi rimasti a parte con lui Per 2.000 euro Ok Vai ok 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 Passo? Sì. Allora. Oh, bravo. Ok, questo va. Il? 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 burnerventile aップare. Il? È un statunitivo di cass clubs che ho zapato. È un statunitivo diけれ Bora, Questo è il motivo per il quale non è un GK, solo al nazio, poi dopo al nazio, perché è bello, è bello da giocare, però non ricordo troppo, non è un mazzurro. GK-Moth è stato qualcosa di allucinante, Rito-Rito, Moth, doppio erago. Praticamente sono attaccati in pezzo. Sì, infatti, sì, non è affatto una coniglia. No. Ok. Io domina. Sì. E allora... Solo sferacolito, mi fa salvare. C'è solo una carta che ti spizzano. Eh, io devo fare fare anche questa altra cosa. L'ho fatto. Eh? Guarda che trova il tuo ragazzo. Ah! In realtà, posso fare pure un altro ragazzo, tua moglie, scusa. Sì, le caccia è meglio rapida. Sì, le potrebbero fare anche così. Sono quelle là con... Con questo? Adesso? Una caccia è meglio rapida, sì. Eh, guardi qua questa, ti so vuoi. Sì, vuol dire. Ok. Quanto? Di due metri. Ok. Perfetto, vedi che più forte di te hai. Oh no. Mi sento che abbiamo fatto un po', quindi mi devo dire che cosa è stessa. Chiara, che forte di te. Ma cos'è la carta del prima pallale? Puliti? Eh sì, questo. Puliti? Ah, ok. Perfetto, sì. Ah, non ho capito che ero... Bene. Ma cos'è la carta del prima pallale? Penso di un altro gioco Sì Volevo ammazzare un po' dietro Non l'ho fatto qui dentro Best d'hbuilder Best d'hbuilder Ah, dico? Sì Non la lista Pier Come c'è il gioco appunto Vai C'è il gioco? Ok 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 E poi 2.22 Ok Oh, guada Sì, la scopri sì, dai. Ok. Buona, grazie. Buona, grazie. Questa è buona. 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 Ciao. Eh, non, questo è più piccoli, due tre qualche vele. ma non so ma basta si, ho fatto tipo 4.000 e 6.000 si, ho fatto e la soluzione ok e la soluzione e la coperta e la coperta ok vuoi tornare? no adesso lo tornare non so quindi possiamo avere questo no, devo essere per tutto ci so distruggere una delle due o due e forse non posso evitare di una? eh non lo so, aspetta un attimo oh, mi chiede se io faccio da stornato non ho mostri e io ho beccato il buon tornato di Karen e ha due mostri, non se ne deve spartare uno dei suoi due applicatoriamente se io ho solo una sette e non l'ho scoperta si, si, distruggere una aperta e scoperta è proprio di complicatorio tu la scoperta la scoperta salvo la scoperta no, 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 anche tu quella vuoi tu perché sono entrambe scoperta sono entrambe i mostri non per forza una cantilata tu decidi trarre tutto quello tuo non ho mai scoperta è… eee... un attaccato il respiro e ci siamo più scoperta quanto stiamo facendo? è un'altra parte si va? va a dire va a dire va a dire si non? si 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 Grazie. 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 Ok. Fai a... 3.000 A e 2. 2.2, sì. Passo. 3.000 A? Sì, 2.3.5. Allora, userebbe il risposto. Vai. Ok. 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 Vai a... 3.5... 2.1. 2.1. 2.1. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 3.5. 1. 3.5. 4.5. Però la cosa stessa fa fare? 5.5. 6.10. Ok. 5.3. 5.3. 6.10. 7.10. 7.10. 16.10. ok 1, 2 Grazie. finito